Che ne dici di allenare un po' il cervello? Se sei pronto, cominciamo! Un uomo entra in una stanza e vede tre porte. Sulla prima c'è un cartello con scritto «Alle paludi». Sulla seconda c'è scritto «Tana del leone». La terza porta non ha scritte, ma l'uomo sa con certezza dove conduce. Come fa a saperlo? È la porta da cui è entrato. Torni dalla pausa pranzo e scopri che qualcuno ha rubato 50 euro dalla tua borsa. Hai quattro sospetti. Mila, Henry, Jackson e Victoria. Quando chiedi loro dei soldi, Mila risponde che non li ha presi. Henry dice di essere abbastanza sicuro che Jackson ha preso i soldi. Jackson grida «No, Henry, sta mentendo!» e Victoria sostiene che Mila sta dicendo la verità. Solo una di queste persone non sta mentendo. Chi ha preso i tuoi soldi? Mila! Lei, Henry e Victoria mentono mentre Jackson dice la verità. Se qualcun altro avesse preso i tuoi 50 euro, più persone starebbero dicendo la verità. Dei passeri si sono appollaiati su degli alberi. Un uccello per albero. Uno di loro però non ha un proprio albero. Poi cambiano posto. Stavolta ci sono due passeri per albero. Così facendo, un albero rimane vuoto. Quanti uccelli e quanti alberi ci sono? Ci sono quattro passeri e tre alberi. Tre famosi detective si recano in un bar per discutere un caso spinoso. Un cameriere si avvicina e chiede «Volete tutti un caffè?» Il primo detective risponde «Non lo so». Il secondo detective risponde «Non lo so». E il terzo detective dice «Sì». Perché?» Tutti i detective vogliono un caffè, ma i primi due non possono sapere se è la scelta di tutti. Se i primi due detective non avessero voluto il caffè, avrebbero semplicemente detto «No». Così, quando il terzo detective ha sentito le risposte dei colleghi, ha capito che entrambi volevano il caffè. E poiché anche lui lo voleva, ha risposto «Sì». Guarda questa scena e cerca di capire chi è l'alieno. È l'uomo con la camicia gialla. Sta mangiando una banana, ma non l'ha sbucciata prima di morderla. Probabilmente è la prima volta che ne vede una. Hai un'equazione fatta di fiammiferi. 6 più 4 uguale 4. Sposta un solo fiammifero per renderla vera. Prendi un fiammifero dal segno più e aggiungilo al 6, in modo da ottenere 8. Così avrai 8 meno 4 uguale 4. Guarda questa scena. Tutte queste persone sembrano conoscersi. Ma chi è il marito della donna? È l'uomo sulla destra, è l'unico ad avere una fede al dito. Il prossimo indovinello serve a verificare la tua attenzione e i dettagli. Chi è suo marito? È l'uomo a sinistra. Guarda, c'è la sua foto in macchina. In realtà è lui il proprietario del veicolo. Riesce a capire cosa c'è di sbagliato qui? Sembra che questi tipi indossino degli smartwatch. Ehi, il tuo prossimo compito è capire dove si nasconde il criminale. Assicurati di prestare attenzione a ogni dettaglio. Il criminale si trova nella casa A. L'auto accanto è parcheggiata in modo che il criminale possa scappare il più velocemente possibile. Riesci a capire chi di queste persone è più in pericolo? Questo ragazzo, questo pezzo di ghiaccio sta per cadergli in testa. La persona nell'auto gialla sta guidando bene o male? È un modo di guidare sbagliato e molto pericoloso. L'auto procede troppo lentamente. Per sorpassarla, il conducente alle sue spalle dovrà passare dalla corsia di sinistra a quella di destra, causando un incidente. Come si può passare da 98 a 720 utilizzando una sola lettera? Aggiungi la lettera X tra 90 e 8, otterrai 90 per 8 uguale 720. Un ricco uomo d'affari sta viaggiando su un treno ad alta velocità. Ha con sé una valigia piena di contanti. Il treno sta attraversando una zona montuosa con numerose gallerie. Dopo che il treno lascia una galleria, l'uomo d'affari si accorge che la sua valigia è sparita. Nel vagone ci sono solo altri quattro passeggeri. Matthew dice di aver rotto con la sua ragazza e di essere troppo provato per notare quello che succede intorno a lui. Joseph dice di aver comprato un romanzo del suo autore preferito alla stazione e di essersi immerso nella lettura. Zoe dice di non aver visto nulla. Le lacrimavano gli occhi, irritati dal fumo emesso dal treno. Ellie dice di aver fatto un pisolino con la sua maschera per dormire. Allora riesce a capire chi ha preso la valigia dell'uomo d'affari? È stata Zoe! I moderni treni ad alta velocità sono elettrici e non producono fumo. Hai un sacco pieno di arance. Devi usare queste arance per riempire altri due sacchi della stessa dimensione. come puoi fare? Metti i sacchi vuoti l'uno nell'altro e riempili di arance. Il detective Marcus e un altro passante assistono a un incidente stradale. Un uomo investito da un minivan gioce a terra privo di sensi. Marcus si precipita al bar più vicino per chiamare un'ambulanza. Al suo ritorno il passante gli dice che l'uomo si è girato ma non ha ripreso conoscenza. Dopo aver osservato la scena per un paio di secondi il detective dice è meglio che restituisca tutto quello che ha preso a quest'uomo. Perché dice così? Quando ha visto l'uomo per la prima volta la sua giacca aveva solo un bottone abbottonato ma ora sono due. Il passante deve aver aperto la giacca per cercare il portafogli e poi l'ha abbottonata male. Immagina di esserti perso in una foresta in una gelida notte d'inverno. Ti rendi conto di non avere nulla per riscaldarti. Hai tre opzioni. Rimanere dove sei e chiamare aiuto. Continuare a camminare fino a uscire dalla foresta. Proseguire ma facendo piccole pause sedendoti sulla neve e coprendoti con qualche ramo. Se rimani fermo ti congelerai in un attimo. Anche sederti sulla neve per brevi pause non è una grande idea. I rami non ti riscalderanno e potresti addormentarti per sbaglio e non svegliarti più. L'unico modo per sopravvivere è continuare a camminare. Sara ha invitato la sua amica Alice che studia per diventare agente di polizia a una festa. È stata organizzata da Sean, un amico di Sara. Sara teme che alla festa possa esserci un ladro. Per tutta la durata dell'evento Alice osserva attentamente gli ospiti. Alla fine della festa dice a Sara chi è il ladro. L'hai capito anche tu? È il padrone di casa, Sean. All'inizio della festa un ospite aveva un orologio al polso e questa donna aveva una bellissima collana. Ma alla fine della festa l'orologio è al polso di Sean e la collana è in quel vaso di fiori. Vedi? Austin, un ricco uomo d'affari, porta in ufficio dei documenti importanti. Ma ha una riunione e deve assentarsi per ore. Austin chiede alla sua segretaria di stare attenta. I suoi concorrenti potrebbero entrare nel suo ufficio per guardare i documenti. Quando torna, la segretaria gli dice che tutto è stato tranquillo. Ma guardandosi intorno, l'uomo si rende conto che qualcuno è entrato nel suo ufficio. Alla fine la segretaria ammette di essersi addormentata mentre Austin era via. Come ha fatto l'uomo a capire che qualcuno era entrato nel suo ufficio? Il mappamondo sulla scrivania è girato nella direzione opposta. Guarda queste persone con attenzione. A chi appartiene questo cane? Il proprietario del cane è il tipo al centro, è l'unico che non cerca di accarezzare l'animale. Immaginate di dover sostenere un colloquio di lavoro presso una delle più grandi aziende del mondo. Sto parlando di Google, Microsoft o persino della SpaceX di Elon Musk. Ma per ottenere il lavoro dei vostri sogni dovete superare un test di ingresso molto difficile. Ho raccolto alcune delle domande che vengono effettivamente utilizzate in questi test. Quindi indossate il vostro cappello da pensatore e non accontentatevi di meno del 100%. Buona fortuna! 1. Inizieremo in modo semplice. Avete 7 secondi per trovare la risposta. Il primo indovinello da risolvere è quello delle due brocche. Ecco il procedimento. Vostra madre vi chiede di misurare 4 tazze di succo d'arancia usando due caraffe. Il problema è che avete una brocca da 20 tazze e una da 36 tazze. Come si può fare? Per iniziare versare il succo d'arancia nella caraffa più piccola. Poi versare tutto il succo da quella brocca nella brocca da 36 tazze. In questo modo lo spazio vuoto della caraffa grande vi darà 16 tazze. Dopo aver fatto questo potete riempire la caraffa da 20 tazze con altro succo fresco e versare il liquido nella caraffa da 36 tazze. In questo modo riempirete l'intera caraffa da 36 tazze e ciò che rimarrà nella caraffa più piccola saranno le 4 tazze di succo richieste da vostra madre. Intelligente, eh? 2. Passiamo al secondo round. Supponiamo che la vostra stanza abbia 3 interruttori e che uno di questi interruttori sia per il ventilatore della stanza accanto. Non potete vedere se il ventilatore è acceso o spento o se non uscite dalla vostra stanza. Capito? Ok. Allora, devi capire qual è il numero minimo di volte in cui devi entrare nella stanza accanto per individuare l'interruttore corretto che accende il ventilatore. È un po' complicato, ma ecco la soluzione. Il numero minimo di volte in cui si può entrare nella stanza accanto e capire la risposta è 1. Immaginate di aver acceso il primo interruttore nella vostra camera da letto e di averlo lasciato acceso per un po'. Non appena lo spegnete, accendete rapidamente il secondo interruttore e correte nella stanza accanto. Se la ventola ruota lentamente e sta per fermarsi, significa che il primo interruttore è quello che controlla la ventola. Se la ventola è in funzione, allora il secondo interruttore è quello giusto. E se la ventola non si muove affatto, allora il problema è sempre stato il terzo interruttore. Siamo riusciti a risolvere questo problema? Ehi, nessuno ha detto che sarebbe stato facile. Dopotutto, si tratta di un finto colloquio di lavoro per un'azienda di primo ordine. 3. Il terzo round è ancora più difficile del precedente. Un intervistatore potrebbe chiedervi di risolvere questo indovinello per capire le vostre capacità di individuazione degli schemi. Supponiamo che vi sia stato chiesto di osservare una pista automobilistica a 6 corsie per un giorno. Il vostro compito è quello di individuare le 4 auto più veloci su 36. Quante gare fareste per scoprirlo? Ecco cosa si può fare. Fate 6 gare di auto diverse, raggruppando 6 auto per gara. Dopo aver determinato il vincitore di ognuna di queste gare, si svolge un'altra gara con i 6 finalisti. Il vincitore di questa gara sarà determinato come il veicolo più veloce di tutti. Poi si posizionano la seconda, la terza e la quarta auto in base alle prestazioni ottenute nell'ultima gara. Al termine di 7 gare, avrete individuato le 4 auto più veloci su 36. Buon per voi se siete riusciti a trovare questa soluzione. 4. Per il prossimo indovinello è necessario pensare in modo logico e matematico. Una regina deve assumere un operaio per 7 giorni affinché svolga un lavoro per lei. La regina paga in lingotti d'oro, ma deve pagare l'operaio ogni giorno alla fine del suo turno. Se la regina è in grado di effettuare al massimo due tagli nel lingotto d'oro, come può pagare all'operaio l'importo corretto di un settimo del lingotto d'oro alla fine di ogni turno. Vediamo come può funzionare. La regina effettua due tagli nel lingotto, dividendoli in tre pezzi. Il primo pezzo è un settimo della barra, il secondo pezzo è due settimi della barra, il terzo è pari a quattro settimi della barra. Dopo il primo giorno di lavoro, la regina dà all'operaio un settimo della barra come pagamento. Il giorno successivo gli dà due settimi del lingotto e chiede in cambio il pezzo da un settimo. Alla fine del terzo giorno dà di nuovo all'operaio il pezzo più piccolo. In questo modo l'operaio ha tra le mani un totale di tre settimi del lingotto d'oro. Poi, dopo il quarto giorno, la regina toglie i primi due pezzi e dà all'uomo quattro settimi del lingotto. Alla fine del quinto giorno dà di nuovo all'operaio un settimo del lingotto. Alla fine del sesto giorno, la regina dà all'operaio due settimi del lingotto e richiede quello da un settimo. Il giorno sette lo paga con l'ultimo pezzo da un settimo e l'affare concluso. Cinque. Siete pronti per l'ultimo round del primo livello? Se avete risposto correttamente finora, oserei dire che fate parte di un gruppo di persone molto speciale. Buona fortuna per la prossima prova. Determinerà se passerete al secondo livello. Due autobus si stanno dirigendo l'uno verso l'altro a una velocità di 40 miglia orarie. Sono separati da una distanza di 40 miglia. Un uccellino vola avanti e indietro, atterrando sull'autobus 1 e poi sull'autobus 2 a una velocità di 50 miglia orarie. Quando gli autobus si incontreranno quante miglia avrà percorso l'uccellino. Amanti della matematica, questo è per voi. La prima cosa che dobbiamo scoprire è il tempo che gli autobus impiegheranno per incontrarsi. Per scoprirlo, dobbiamo dividere la distanza tra gli autobus per la velocità combinata dei due veicoli. Se entrambi viaggiano a 40 miglia orarie, la loro velocità combinata è di 80 miglia orarie. Dato che la distanza tra i due veicoli è di 40 miglia, dividiamo 40 per 80. Questo ci darà 0,5 ore, ossia 30 minuti. Per calcolare la distanza totale percorsa dall'uccello, moltiplichiamo la velocità dell'uccello per il tempo necessario alle autobus per incontrarsi. Questo ci darà 50 per 0,5, quindi la risposta corretta è 25 miglia. Uff, sono stanca solo al pensiero di quell'uccellino che vola per tutti quei chilometri. 6! Ehi, se avete superato questo test finora, congratulazioni, avete appena sbloccato il livello 2. In questo livello avrete 15 secondi per pensare a una risposta. Gli indovinelli diventeranno sempre più difficili, quindi bisogna tenere la mente allenata. Una tartaruga si trova alla base di una collina di 210 piedi e sta cercando di raggiungere la cima. Ogni ora la tartaruga sale di 15 piedi e scivola giù di un piede. Quanto tempo impiegherà la tartaruga per raggiungere la cima della collina? Ecco il ragionamento alla base di questo indovinello. Ogni ora il nostro amico tartaruga si arrampica per un totale di 14 piedi, giusto? Dato che ne sale 15 e scivola giù per un piede, la tartaruga impiegherà 15 ore per arrivare in cima alla scogliera, dato che 15 per 14 equivale a 210. Non è andata male, eh? Domande come queste permettono agli intervistatori di testare la vostra capacità di risolvere i problemi relativi ai numeri. Se volete lavorare in un'azienda spaziale dovreste essere molto e dico molto bravi con i numeri. 7. Il prossimo indovinello è uno dei preferiti di Elon Musk. È breve ma complicato. Se qualcuno di voi sogna di diventare un dipendente di SpaceX, è meglio che riesca a risolvere questo indovinello. Immaginate di trovarvi sulla superficie della Terra. Camminate per un miglio a sud, un miglio a ovest e un miglio a nord. Alla fine vi ritrovate esattamente al punto di partenza. Dove vi trovate? Se avete risposto il polo nord, avete capito bene. Ma l'enigma non si ferma qui. Se non fosse al polo nord, in quale altro luogo potreste ricevere le stesse identiche istruzioni. Sì, il polo sud. Ecco come funziona. Questo indovinello presuppone che il mondo sia una sfera perfetta. Se così fosse, l'unico posto in cui si potrebbe camminare per un miglio verso sud, ovest e nord e ritrovarsi nello stesso posto è uno dei poli. Capito? 8. Per arrivare al livello 3 bisogna rispondere correttamente a questo indovinello. Ci sono due corde in una stanza. Tutto ciò che sai è che ogni corda impiega esattamente un'ora per bruciare. Il compito è quello di cronometrare esattamente 45 minuti, utilizzando le corde come unica fonte per scoprire il tempo. Come riuscite a farlo? Ecco come procedere. Si devono accendere entrambe le estremità della prima corda e un'estremità della seconda. In 30 minuti la prima corda sarà completamente bruciata, perché brucia due volte più velocemente con entrambe le estremità in fiamme. Poi si dovrebbe accendere la seconda estremità della seconda corda. La seconda corda avrà ancora 30 minuti per bruciare, ma accendendo l'altra estremità la corda brucerà due volte più velocemente, cioè in 15 minuti. Voilà! Avete cronometrato 45 minuti senza l'aiuto di alcun orologio. 9. Ehi furbacchione, sei appena arrivato al livello 3? Se fossi l'intervistatore probabilmente ti darai già il lavoro. Ma per il solo gusto di farlo, assicurati di rispondere correttamente a tutte le domande, ok? Queste ultime domande sono molto più specifiche. Come tutte le domande di questo video, sono state utilizzate in veri colloqui di lavoro. In pratica vi stiamo addestrando a superare un vero test. Ad esempio, se vi candidate per una posizione alla JP Morgan, dovrete rispondere a questa domanda. Quanti lampioni ci sono a New York? Riuscite a trovare il numero prima dello scadere del tempo. Per quanto possa sembrare impossibile indovinare la risposta senza una ricerca su Google, ciò che JP Morgan vuole testare è la vostra capacità di fare delle spime. Ecco la logica. I quartieri di New York hanno una griglia urbana ordinata, quindi il vostro primo compito sarà quello di stimare il numero di isolati orizzontali e verticali in ogni quartiere. Quindi stimare il numero di lampioni che ogni isolato può avere, moltiplicate questo numero per 5, poiché New York City è composta da 5 distretti, e poi avrete il vostro numero. Se è vicino a 300.000, allora avete indovinato. 10. Se vi candidate per una posizione in un'azienda sanitaria, vi troverete di fronte a questo indovinello fruttato. Una mela costa 40 centesimi, una banana 60 centesimi e un pompelmo 80 centesimi. Quanto costa una pera? Accidenti, ho dovuto leggerlo un paio di volte prima di capire cosa fare. La chiave per rispondere a questo indovinello è concentrarsi sulle vocali. Se si fanno pagare 20 centesimi per vocale, la parola a due vocali mela costerà 40 centesimi. Con la stessa logica, la parola a tre vocali banana costerà 60 centesimi e la parola a quattro vocali pompelmo 80 centesimi. In questo scenario, una pera costerà 40 centesimi. Ecco la risposta. 11. Siete arrivati alla fine di questo test. Controllate le ascelle, se state sudando probabilmente significa che avete fatto un ottimo lavoro. Per concludere, ecco una domanda interessante che un'azienda tecnologica pone ai suoi intervistati. Come descriveresti internet a qualcuno che si è appena svegliato da un coma di 30 anni? A differenza di tutte le altre domande, questa non ha una risposta giusta o sbagliata. Potreste provare a fare un paragone con qualcosa che esisteva 30 anni fa, per esempio. Oppure potreste entrare in modalità Spielberg e descrivere il mondo quasi fantascientifico in cui viviamo oggi. In ogni caso, spero che abbiate ottenuto il lavoro. Ciao, mio detective preferito. Ho in serbo per te una nuova serie di indovinelli per allenare la tua mente. Iniziamo! Una sera d'estate, Emily organizza una festa, ma al mattino scopre che qualcuno ha rubato tutti i suoi gioielli e i suoi soldi. La polizia ha tre sospettati, Daniel il fidanzato di Emily, Lily la sua migliore amica e Anna la sorella. Daniel racconta alla polizia di aver giocato tutta la notte al computer col suo amico. Lily si è sentita male ed è tornata a casa nel cuore della notte. Dice di non saper nulla del furto, quando la polizia la chiama. Anna racconta di essere rimasta alla festa fino alle 7 del mattino e di aver preso un taxi per tornare a casa perché nessuno poteva darle un passaggio. Era buio e non vedeva nulla. Chi sta mentendo? Anna, alle 7 del mattino in estate, fuori c'è gialluce. Un giorno un famoso allenatore di calcio scompare da uno spogliatoio. La polizia ha tre sospetti e tutti appartengono alla sua squadra. Brandon dice che dopo l'allenamento è rimasto in campo per allenarsi ancora un po'. Non è andato nello spogliatoio. Andrew giura che dopo l'allenamento è uscito per incontrare la sua ragazza e James dice, quando sono uscito dallo spogliatoio, l'allenatore era ancora lì. Chi c'è dietro la scomparsa dell'allenatore? Brandon dice di non essere andato nello spogliatoio, ma guarda, non indossa la tuta, ma ha abiti normali. Un professore pazzo ha rapito Zoe e l'ha portata a casa sua. Ha intenzione di fare esperimenti su di lei. Non c'è modo per la giovane donna di fuggire, ma un giorno lo scienziato ha iniziato ad annoiarsi. Domani dovrai prepararmi la colazione. Se mi piacerà, ti lascerò andare, altrimenti nessuno sentirà più parlare di te. La mattina dopo Zoe inizia a cucinare, ma quando si allontana dai fornelli, lo scienziato versa nella pentola un'intera scatola di sale. Tuttavia, quando Zoe gli serve la colazione, capisce che deve comunque liberarla. Riesci a capire cosa ha cucinato Zoe? La ragazza ha bollito delle uova. Un uomo in moto si schianta contro la vetrina del negozio del signor Ruby, prende diversi orologi costosi e scappa. Quando la polizia arriva, il signor Ruby dice di essere quasi sicuro che sia stato suo nipote, Patrick. Gli agenti vanno a fargli visita. A causa di un forte acquazzone, impiegano un'ora per arrivare a destinazione. Patrick è a casa insieme al suo amico. Guardate che tempaccio, non esco da ieri. L'amico di Patrick conferma le sue parole, ma la polizia non crede alla loro storia e arresta Patrick. Perché? Il casco del ragazzo è appeso alla sua moto. Se fosse stato lì dal giorno precedente, a quest'ora si sarebbe riempito di acqua piovana. Quattro amici si recano insieme in un caffè. Due di loro, Linda e Mike, ordinano una tazza di tè e i mirtilli. Carsten prende una limonata e Oscar opta per un succo d'arancia. Mezz'ora dopo, Linda e Mike perdono conoscenza e vengono trasportati d'urgenza in ospedale. Quando la polizia analizza il tè che hanno bevuto, vi trova del veleno. I principali sospettati sono ovviamente Carsten e Oscar. Perché non hanno bevuto il tè? Carsten dice che non le piace il tè con i frutti di bosco e Oscar spiega di essere allergico alle more. Chi è il colpevole? È Oscar. Ha detto di essere allergico alle more, ma il tè che hanno bevuto i suoi amici era i mirtilli. David lavora in un cantiere edile. Un giorno qualcuno lo aggredisce e l'uomo, privo di sensi, viene portato in ospedale. Gli agenti di polizia che arrivano per indagare sul caso hanno tre sospettati, che lavorano al cantiere. Alex, Ryan e John. Alex dice stavo mettendo le tegole sul tetto quando è successo l'incidente. Ryan confessa che stava dormendo all'ombra dell'albero. E John afferma che in quel momento stava posando dei mattoni. Riesci a capire chi sta mentendo? È stato Alex a perire David. L'edificio non ha ancora il tetto, quindi non poteva mettere le tegole. Hai comprato un bel coniglietto in un negozio di animali. L'animale può riprodursi ogni due mesi e ogni volta partorirà cinque piccoli. Quanti conigli avrai in un anno? avrai ancora un solo coniglio. Se vuoi avere dei coniglietti, devi comprarne due. Osserva con attenzione queste persone. Chi è il tritone? Resta attenzione a ogni dettaglio. È l'uomo sulla destra. Guarda, ha le mani palmate. Allison ha vinto il premio principale di un milione di dollari in un game show, ma al termine delle riprese si scopre che il conduttore del programma è scomparso insieme al premio. La polizia riesce ad accedere al computer del suo ufficio. Vedono che il conduttore ha inviato questo messaggio alla sua ragazza. sembra che le abbia detto dove sta andando. La polizia va all'aeroporto. Ma quale volo prenderà il conduttore? Riesce a scoprirlo? Vediamo. Le prime due lettere di Atlas sono AT. Se togliamo tre lettere dalla parola Land otterremo LAN. E le prime due lettere di Tattoo sono TA. Insieme queste lettere formano la parola Atlanta. Correte al gate, agenti! Jack si perde nel bosco. All'improvviso vede un castello. L'uomo si precipita lì e viene accolto dal proprietario. Devi rispondere a una sola domanda. Se vincerai, ti mostrerò la strada per uscire dalla foresta. Ma se perdi, non lascerai mai il mio castello. Jack accetta. Il proprietario chiede. Ci sono quattro specchi sul muro. Uno riflette il drago Niren, che sputa fuoco. Il secondo, la bellissima sirena Lora. Nel terzo specchio si vede il terrificante vampiro Sam e nel quarto l'unicorno David. Devi capire quale riflesso non è reale. E in fretta. Il riflesso del vampiro Sam non è reale. I vampiri non vengono riflessi dagli specchi. Un uomo d'affari arriva in ufficio dopo un lungo viaggio e scopre che alcuni documenti importanti sono scomparsi dalla sua scrivania. Chiama immediatamente la polizia e poco dopo arriva un detective. Dopo aver interrogato tutti i dipendenti, stila una lista con tre sospetti. Si tratta di Emma, la contabile, Sofia, la receptionist, e James, un responsabile delle vendite. Ma ognuno dichiara di non essere mai stato nell'ufficio dell'uomo d'affari. Tuttavia non ci vuole molto prima che il detective capisca chi sta mentendo. E tu l'hai capito? Il ladro è James. Entrambe le donne indossano tacchi alti, ma le impronte sono state lasciate da scarpe da ginnastica. Mi lanci quando hai bisogno di me e mi raccogli quando non ne hai più bisogno. Riesci a capire cosa sono? Hai ragione, sono un ancora. Come puoi aumentare 66 di 1,5 se non ti è permesso fare alcuna operazione matematica? Sbrigati a risolvere questo indovinello. Basta capovolgere il 66. È l'anniversario di matrimonio dei coniugi Smith e la signora Smith vuole indossare gli orecchini di diamante che il marito le ha regalato per il matrimonio. Ma quando apre il portagioie, vede che gli orecchini non ci sono. Chiama le figlie Dora e Laura? Vi ho detto tante volte di non toccare le mie cose. Chi ha preso i miei gioielli questa volta? Dora esclama, non ho toccato il tuo portagioie. Anche Laura nega di aver preso le cose della mamma. Non porto nemmeno gli orecchini. Riesci a capire quale ragazza sta mentendo? È stata Laura a rubare gli orecchini. La mamma non ha specificato quale gioiello mancasse. Ehi, il sogno di Justin si sta per avverare. Sta facendo un tirocinio presso la caserma di polizia e vuole diventare un vero detective. Ma prima deve superare una sfida. La sfida è composta da una serie di difficili enigmi da detective. Ed ecco il primo. La polizia ha cercato un ragazzo di nome Kyle per due giorni. Il ragazzo era andato a fare un'escursione e non è più tornato. Alla fine lo hanno trovato. Qualcuno lo aveva colpito in testa e lasciato tra i cespugli. Kyle è riuscito a dire solo amic con voce debole e poi ha perso conoscenza. Gli agenti di polizia hanno tre sospettati e sono tutti suoi amici. Zachary dice di aver trascorso gli ultimi giorni al lavoro preparandosi per una conferenza. Jesse dice agli investigatori di essersi slogato la caviglia e di essere rimasto a letto per quattro giorni. Billy spiega che è stato a New York per affari e mostra agli agenti di polizia la sua carta d'imbarco. Chi c'è dietro l'incidente di Kyle? Justin è un ragazzo attento. Ha subito notato che Billy aveva mostrato una sola carta d'imbarco, ma come ha fatto a tornare da New York? La sua versione non torna. Ora danno a Justin una nota con diversi numeri scritti sopra. Deve capire quale manca. Sarebbe il codice della cassaforte con le prove. Gli serve per risolvere il prossimo caso. 53653. A Justin non serve molto tempo per capire che il numero mancante è 7. Doveva solo andare avanti di un numero. 536 e 537. La cassaforte si è aperta. Justin vede una cartella con il caso da risolvere. Il signor White, un ricco uomo d'affari, è scomparso dalla sua camera da letto, ma è riuscito a lasciare un messaggio. Si legge il primo di luglio, la terza di giugno, la terza di dicembre, la settima di febbraio, la seconda di marzo. La polizia interroga le persone che erano in casa in quel momento. Lucia, la moglie del signor White, ha detto, sono scioccata. Mio marito era sempre così attento. Purtroppo io non so nulla. Ero via e stavo dai miei genitori. Logan, il segretario del signor White, ha detto alla polizia che stava lavorando al rapporto per il capo e non ha mai lasciato il suo studio. E Rose, la figlia del signor White, ha detto, io avevo ospiti. Non abbiamo lasciato la mia stanza. Il caso è ancora irrisolto. Riuscirà Justin a risolverlo? Dietro la scomparsa del signor White c'è la moglie. Il primo di luglio significa la lettera L. La terza di giugno, U. La terza di dicembre, C. La settima di febbraio, I. La seconda di marzo, A. E così otteniamo Lucia. Il giorno dopo, Justin doveva interrogare Mary, sospettata di essersi immischiata nel contrabbando. Ma la ragazza si rifiuta di parlare. A un certo punto grida, proprio ora io annegherei il mio cellulare in questa tazza piena di caffè e non troverete mai la verità. Ma Justin è rimasto totalmente indifferente alla sua minaccia. Perché? La tazza era piena di chicchi di caffè, ma non avrebbero fatto nessun danno al dispositivo. Un lustra scarpe viene arrestato e portato alla caserma di polizia dove Justin lavora. L'uomo gridava dicendo di essere una persona onesta. Lucidava le scarpe gratis. I suoi clienti pagavano quello che ritenevano opportuno, ma ben presto Justin si rese conto del trucco che utilizzava il lustra scarpe. L'uomo puliva una sola scarpa gratis e siccome nessuno voleva una sola scarpa pulita, pagavano per farsi lucidare anche l'altra. Una volta, il capo di Justin ha chiamato la moglie e le ha detto che sarebbe tornato a casa alle 8 in punto. Non avevano nessun impegno quella sera. L'uomo è arrivato quasi in orario, 5 minuti dopo le 8, ma la moglie era furiosa. Il capo era confuso. Quando è tornato al lavoro il giorno dopo, ha chiesto a Justin di spiegargli il motivo per cui la moglie si era tanto arrabbiata. Justin gli ha spiegato, tua moglie si aspettava che tornassi a casa alle 8 di sera, ma sei rientrato alle 8 di mattina. Justin è stato mandato di pattuglia. Mentre era a piedi, ha visto una scena strana. Un uomo è uscito fuori casa con un secchio d'acqua, ha gridato e ha versato l'acqua sul marciapiede. C'è voluto un po' di tempo prima che Justin capisse cos'era successo. L'uomo voleva lavare la sua auto, ma mentre era in casa qualcuno gliel'ha rubata. Una volta hanno rapinato una banca e la polizia sospettava che fosse complice una delle guardie di sicurezza della banca. Justin doveva interrogare tre di loro. La prima guardia di sicurezza ha detto che aveva sentito delle grida ed è corso sul posto, ma quando è arrivato i criminali erano scappati via. La seconda guardia di sicurezza ha spiegato che stava bevendo una tazza di caffè e non si è accorto di nulla. La terza guardia ha detto che si era precipitato verso i ladri, ma che si era fermato per allacciarsi lo stivale. E così ha pensato bene di fermarsi per allacciarlo vicino a un'uscita di emergenza. In quel preciso istante la porta si è aperta e l'ha colpito in testa. Quando si è ripreso i criminali erano già scappati. Justin ha capito subito quale delle guardie era il colpevole. Chi? È la terza guardia di sicurezza. Tutte le porte di emergenza si aprono verso l'esterno per motivi di sicurezza. Il prossimo sospettato di Justin era una giovane donna. Lui non l'aveva ancora vista, ma aveva una sua foto. E quando si è messo a guardare l'immagine, ha capito che c'era qualcosa di sbagliato, ma non riusciva a capire che cosa fosse esattamente. E poi all'improvviso ha capito. Cosa ha capito Justin? La ragazza era dentro casa, ma la porta era bloccata da fuori. Come ha fatto a entrare in casa? Attraverso la finestra del secondo piano? Improbabile. Un noto criminale è scappato da una torre alta 46 metri. Qualcuno era riuscito a dargli un paio di forbici e una corda. Justin scopre che la corda era lunga solo 23 metri e il criminale l'aveva tagliata al centro. Ora, il futuro detective deve capire in quale modo è riuscito a fuggire. Il criminale ha effettivamente tagliato la corda al centro, ma non del tutto. Ha fatto un taglio per la sua lunghezza, poi ha legato le due parti insieme ed è arrivato senza problemi. Ed ecco un nuovo caso per Justin. A settembre Martin ha comprato un'auto e ora, solo un mese dopo, gli è stata rubata. Tutti e quattro i sospettati sono amici di Martin. Il crimine è avvenuto di mercoledì alle ore 22. In quel momento Alan stava giocando a badminton nel parco. Natalie stava tornando a casa dal lavoro, Roy ha portato il suo gatto a fare una passeggiata e Rose stava facendo la spesa al supermercato. Chi c'è dietro il furto dell'auto? È stato Alan. A ottobre alle 10 di sera è troppo buio per giocare a badminton. Manca un importante documento e Justin deve trovarlo prima che il suo capo torni dalle vacanze. Il ragazzo scopre che solo tre persone avrebbero potuto prendere il documento. Nel momento in cui il documento è scomparso, Randy era nel suo ufficio, analizzando un nuovo caso. Johnny stava facendo una doccia prima di recarsi in palestra e Kyla si stava addestrando a sparare. Chi ha preso il documento? È stato Johnny. Chi si fa la doccia prima di allenarsi in palestra? Gli addetti dell'aeroporto erano convinti che un contrabbandiere d'oro dovesse prendere un volo. Justin è stato mandato lì per aiutarli. Poi il sospettato viene fermato alla dogana, ma per quanto ci avessero provato, gli addetti alla sicurezza non sono riusciti a trovare nulla di sospetto nella valigia, solo alcuni effetti personali. Hanno dovuto lasciare andare l'uomo, ma una volta che questi ha ripreso la valigia e stava andando via, Justin ha realizzato che l'uomo aveva l'oro. Come ha fatto a capirlo? C'erano solo un paio di cose nella valigia, il che significa che l'uomo non avrebbe dovuto fare tanta fatica a trasportarla, ma la stava trasportando con entrambe le mani. Questo significa che ci doveva essere qualcosa di pesante nascosto all'interno. Justin ha finito la sua giornata lavorativa e ha deciso di passare del tempo al suo bar preferito, ma mentre stava ordinando un cappuccino, qualcuno ha preso il suo portafogli. Ha visto solo l'ombra di un uomo. Justin ha provato a rincorrerlo, ma l'uomo era già andato via a bordo di una macchina nera. Il nostro futuro detective è saltato sulla sua auto e ha iniziato ad inseguirlo. Non poteva guidare troppo velocemente perché stava piovendo. Dopo dieci minuti, l'auto nera è scomparsa dietro a un angolo. E dopo che anche Justin ha svoltato, ha visto tre auto nere molto simili parcheggiate di fronte a un edificio. Ma non ha impiegato molto a capire qual era l'auto del ladro. Come ha fatto se non ha nemmeno visto la targa? L'asfalto sotto la prima e la terza macchina era asciutto, ma sotto la seconda macchina era bagnato. Questo significa che era appena arrivato. Un uomo si è recato alla caserma della polizia e ha chiesto a Justin di parlargli. L'uomo ha detto che qualcuno gli aveva venduto una moneta falsa. Il venditore ha detto che era antica e lui ci aveva creduto, ma quando è tornato a casa si è reso conto di essere stato ingannato. Justin ha dato un solo sguardo alla moneta e ha dato ragione all'uomo. Ma perché? La moneta aveva il simbolo 15 avanti Cristo, ma le persone che vivevano in quel periodo non sapevano di vivere in un'epoca prima di Cristo. I sogni diventano realtà. Il periodo di prova di Justin è finito e ora è un vero detective. Ehi, ti presento Callum, il miglior detective del mondo. Sei pronto per aiutarlo? Andiamo! Era una giornata piovosa e il detective Callum stava facendo uno spuntino nel suo ufficio. All'improvviso una donna entra e chiede il suo aiuto. Ha detto che aveva steso il bucato fuori ad asciugare, poi era rientrata in casa per guardare un po' di tv. Quando è uscita, il suo vestito preferito era sparito. Credeva fosse stata la vicina, Jane. Era sempre gelosa di quel vestito e voleva che Jane venisse arrestata. Il detective Callum non era convinto. Le ha detto che si era inventata l'intera storia. Ma come faceva a saperlo? Era una giornata piovosa. Chi stende i panni fuori quando piove? C'era un ladro in città e riusciva a fuggire così velocemente che nessuno riusciva mai a prenderlo. Ma poi c'è stata una soffiata e la polizia vede una donna entrare in un negozio. Così hanno circondato il negozio. Dentro c'erano tre donne. Il detective Callum è stato chiamato per interrogarle e identificare il ladro. Quando il detective arriva non ha nemmeno bisogno di interrogarle. Sapeva esattamente chi fosse il ladro. Chi è? È la terza donna. Le altre due portano i tacchi. Non sarebbero in grado di correre con quelle scarpe. La terza donna indossa scarpe da ginnastica. Una banca in centro è stata rapinata. C'erano due criminali ma la polizia riesce a catturarne solo uno, Bill. Bill si rifiuta di dire chi è il suo complice ma la polizia aveva già preso tre sospettati. Harry, George e Ben. Così chiamano il loro fidato amico, il detective Callum. Il detective ci impiega solo 5 secondi per risolvere il caso. Tu ne hai 7. Eben, guarda, ha lo stesso identico tatuaggio di Bill. Recentemente diverse donne sono scomparse e anche se era una piccola città, la polizia non è riuscita a trovarle. Un giorno però Callum individua il rapitore e lo vede entrare in un piccolo capannone abbandonato. Quando il detective entra, si ritrova di fronte a tre donne. Tutte e tre gli dicono che erano rinchiuse da mesi. Ma Callum sapeva che una di loro doveva essere il rapitore e che stava solo fingendo di essere una vittima. La prima donna gli dice che il suo nome è Genesis ed era lì da circa 8 mesi. La seconda donna, Tatum, gli dice che era lì da circa 6 mesi. La terza donna, Chloe, gli dice di essere stata rinchiusa da soli due mesi. Il detective ha subito capito chi era il criminale. Tu ci riesci? È Tatum! Guarda le sue unghie, le ha appena fatte. Sei mesi? Sì, come no! Il proprietario di una gelateria denuncia un furto. Qualcuno ha rubato tutti i soldi dalla cassa ed era successo solo due minuti prima. Il detective Callum arriva 20 minuti dopo. C'erano tre persone all'interno. Hinsley ha detto che stava parlando al telefono con la sua amica e non ha visto niente. Rhett ha detto che era arrivato un paio di minuti prima. Joshua ha detto che era distratto e che non si è accorto di nulla. Dunque riesce a capire chi sta mentendo. Chi ha rubato i soldi? Rhett ha detto che era appena arrivato, ma il suo gelato è già sciolto. Bugiardo! Phoenix voleva fare a suo padre il miglior regalo di compleanno di sempre, ma non sapeva cosa desiderasse. Così ha deciso di entrare nel suo laptop e vedere che cosa avesse salvato nel carrello della spesa virtuale. C'era solo un problema e il laptop richiedeva una password e Phoenix non la sapeva. Fortunatamente accanto c'era un biglietto. Ha mandato l'immagine a un suo amico, il detective Callum. Lui l'ha risolto subito. E tu? Il biglietto non ha senso perché è capovolto. Capovolgilo e vedrai una sequenza di numeri. 88 89 90 91. I numeri all'inizio sono 86 87. La password è 86 87. Il detective Callum si reca in una piccola città dove ogni giorno venivano rapite delle donne. Quattro erano già scomparse e vivevano tutte nella stessa via. Si chiamavano Ava, Bella, Celeste e Daphne. C'erano solo tre donne rimaste su quella via. Eva, Riley e Georgia. Callum doveva agire in fretta. Chi sarebbe stata il prossimo obiettivo? Le donne vengono rapite in ordine alfabetico. A, B, C, D. Il prossimo obiettivo sarà Eva. La villa del signor Coleman è stata derubata mentre lui era in vacanza e quando tornò chiamò immediatamente il detective Callum. Tutti quelli che erano in casa furono interrogati. Sidney, la sorella, ha detto di essere andata a casa sua un paio di volte per trovare dei documenti sulla scrivania del signor Coleman. Samantha, la giardiniera, ha detto che andava ogni settimana per innaffiare le piante. Asher, l'ha detto alle pulizie, ha detto che andava ogni venerdì per pulire la casa. Callum ha trovato le impronte di tutte e tre sulla scrivania del signor Coleman, ma sapeva esattamente chi era il ladro. Chi è? È Samantha, la giardiniera. Sidney e Asher avevano un motivo per toccare la scrivania, ma Samantha non aveva motivo per entrare nell'ufficio del signor Coleman. Non ci sono piante lì. Durante una tempesta, una donna ricca è stata rapinata sul suo yacht. Un testimone ha detto di aver visto Kai, che osservava la donna proprio prima che venisse derubata. Kai ha negato tutto e ha detto che era nella sua cabina e stava scrivendo una lettera alla moglie. Il detective Callum ha chiesto di vedere la lettera. Cinque secondi dopo che Kai gliel'ha consegnata, il detective Callum lo ha arrestato. Perché? Kai ha detto di aver scritto una lettera durante la tempesta. Non può essere che abbia scritto in modo così ordinato mentre si trovava su una barca che oscillava in preda alla tempesta. Logan, un giovane uomo d'affari, è stato avvelenato in casa sua. Il detective Callum arriva sulla scena del crimine e ben presto individua tre sospettati. La ragazza di Logan, Makaila, ha detto che non l'aveva visto quel giorno perché era impegnata al lavoro. Poi c'era il suo socio in affari, Rob. Rob ha detto che avevano litigato ed entrambi erano molto arrabbiati, ma non l'aveva avvelenato. L'ultimo sospettato è Blair, l'autista. Ha detto che non saprebbe come avvelenare qualcuno anche se lo volesse. Chi dovrebbe arrestare il detective Callum? Guarda, c'è del rossetto fresco sulla maglietta di Logan. Corrisponde a quello di Makaila, ma ha detto che non l'aveva visto quel giorno. Qualcosa non torna. Eloise ha trovato la sua amica, Fleur, avvelenata all'interno di casa sua. Ha subito chiamato Callum e gli ha detto che stava passando davanti alla casa quando ha notato che la luce era accesa. Le ha mandato un messaggio, ma Fleur non ha risposto. Si è preoccupata, così ha rotto la finestra ed è entrata e l'ha trovata a terra. Ma il detective Callum non le ha creduto, l'ha immediatamente arrestata per aver avvelenato la sua amica. Ma perché? Eloise ha detto di aver rotto la finestra per entrare. Se fosse stato così, i vetri rotti si dovevano trovare all'interno della stanza, non fuori. Eloise ha voluto coprire le sue tracce e quindi ha rotto il vetro successivamente dall'interno. Uno studente universitario è stato derubato durante la presentazione delle bandiere. Il detective Callum è arrivato per indagare sul caso e ha interrogato diversi sospettati. Kennedy ha detto che era in bagno in quel momento. Gavin ha detto di aver notato che la bandiera giapponese era appesa a testa in giù, quindi è andato ad aggiustarla. Eleanor ha detto che la studentessa derubata era la sua migliore amica. Non avrebbe mai fatto una cosa simile. Chi è il colpevole? È Gavin. Ha detto che la bandiera giapponese era appesa a testa in giù, ma quella bandiera rimane sempre uguale, non importa come la giri. Quindi sta mentendo. Qualcuno ha rubato una collana di diamanti a una festa di VIP. La polizia ha seguito il ladro fin dentro una boutique. C'erano tre clienti all'interno e non sapevano chi fosse il ladro, quindi hanno chiamato il detective Callum. Adele ha detto che non sarebbe mai andata a una festa VIP. Sono cose per persone ricche e famose. Joseph ha detto che non ne sapeva nulla della festa. Florence ha detto che per l'ultima mezz'ora è stata nel negozio cercando di trovare un accessorio. Chi dovrebbe arrestare il detective Callum? Adele indossa un braccialetto e degli orecchini d'oro. Sembra acchittata per un evento stravagante, forse per una festa VIP? Il detective Callum ha saputo che degli alieni erano sbarcati sulla terra. Lui aveva una missione, individuarli e informare il governo. Così entra in un bar e bam, le individua uno. Chi è? È quel tipo con i capelli scuri, a sei dita. Il signor Brown, un ricco uomo d'affari, è stato derubato la scorsa notte. Il detective Callum arriva sul posto appena possibile e interroga tre vicini. La signora Jonas gli dice di essere tornata la sera tardi ed è andata subito a letto. Il signor Paulson gli dice che aveva sempre desiderato vedere l'oceano, quindi è andato in vacanza in Bolivia ed è tornato solo un'ora fa. Il signor Tanner ha detto che aveva passato l'intera giornata a lavorare in giardino ed è andato a dormire verso le otto di sera. Chi ha arrestato il detective Callum? Il signor Paulson ha detto che era andato in Bolivia per vedere l'oceano, ma la Bolivia non si affaccia su nessun oceano. Richard è corso nell'ufficio del suo capo. Finn l'aveva appena picchiato nel bagno perché non lo aveva aiutato con la sua presentazione, ma Finn ha negato tutto. Il capo ha chiamato il suo compagno di golf, il detective Callum. Quando è giunto sul posto ha guardato Richard e Finn. In qualche modo ha capito che Richard stava mentendo, ma come ha fatto a capirlo? Richard ha un livido sul lato destro della faccia. Finn sta mangiando un panino e lo tiene nella mano destra, quindi è destrorso. Se Finn avesse colpito Richard, il livido sarebbe stato sul lato sinistro della faccia.